Mamma mia, Mariolina Cannuli, Paola Perissi, Ilaria Moscato, Alessandra Canale, Rosanna Maudetti e tra tante bellezze Giancarlo Magalli. Mariolina, Mariolina, pop pop pop, io vorrei che Mariolina, Mariolina Cannuli, ecco che è stata vittima di doppia coppia, che tu facessi un annuncio come nel 60, nel 70, quando eri non costretta, avevi il piacere di annunciare un grande successo come allora. Sì, è stata una cosa un po' particolare, anche perché faccio l'annuncio in manca al boa. Come lo facevi allora, con quella passione, con quella eroticità dei tempi, insomma, con quello che... Adesso non c'è più, vuoi dire? Adesso si esagera anche, però insomma, Mariolina Cannuli, vai. Signore, signori, ragazzi, giovanotti, restate su questa rete perché sta per andare in onda il primo numero di doppia coppia. Doppia coppia. Signori e giovanotti, buonasera. Come vedete il triangolo sta segnalando l'inizio del programma sul secondo canale. ma io vi consiglio di restare qui, con me, no? Sta infatti per iniziare il primo numero di doppia coppia. Mariolina, ti ricordi il tuo primo annuncio? Eh? Sì. Primo primo? Primo primo della tua carriera, il primo. Primo primo è stato un annuncio alla TV dei ragazzi e l'emozione mi ha giocato un brutto scherzo. Cioè? La collega, che doveva darmi il via, mi ha praticamente sfilato la gonna, quindi ha avuto già una partenza molto sexe. Cioè, eri in mutande? Praticamente quasi sì. Cioè, Abba ha cercato, mi ha tirato la gonna per darmi il via, quindi ci sono andata in onda, non solo di traverso, ma la gonna piano piano scivolava. In tutto questo, cari ragazzi, buon pomeriggio, cartone animati, vieni scorrendo. Che cosa vi state perdendo? No, che cosa stavo perdendo? Questo è stato il primo annuncio. La tua papera invece è stata un'altra cosa, ma è meglio ignorarla. La tua papera invece, Paola, qual è stata? Quella clamorosa, proprio quella indimenticabile. La mia prima? Sì. Il romanzo scemeggiato. Classico. Il romanzo scemeggiato. Scemeggiato. Però un quotidiano l'indomani mi ha dato anche ragioni. Ha detto tutto sommato non aveva... Perché il romanzo era stupido? Evidentemente. Io l'ho fatto inavvertitamente. Meritava di essere annunciato così. Evidentemente. Il quotidiano così ha definito... Il romanzo scegliato. Invece l'annuncio più bello, quello che vorresti conservare nella teleteca dei tuoi ricordi. C'è un annuncio importante per te. No, io ho un annuncio, una patra di un annuncio. Perché so che l'ha fatto anche Mariolina qualche tempo prima. Io dissi un primo gennaio, trasmettiamo la messa ufficiata da Sua Maestà Giovanni Paolo II. Ma bello, Sua Maestà? Che maledica. Ho glissato così. Nessuno ti ha telefonato, io la verità. E no, perché sai, l'ascoltatore dice è impossibile che loro hanno sbagliato, che lei ha sbagliato. Avrò sentito male io per cui. Certo, certo, certo. Sembra vero. Sua Maestà. Senti, Alessandra, invece, una proposta di matrimonio. Tu sei ancora nubile, mi pare, no? Sì, sono nubile. E voi ricevete molte proposte di matrimonio, una proposta consistente. Mio nonno mi diceva. Tuo nonno? Sì. Il matrimonio... Sì, il matrimonio è come mettere la mano all'interno di un sacco colmo di tante vipere con una sola anguilla. Devi riuscire a prendere la sola anguilla. Ma c'è un'anguilla che ti abbia conquistato? Ancora no. Non c'è uno spasimante che ti insegue con fasci di rose in camerino? Ce ne sono tanti, devo scegliere. Vabbè, sceglierà. Rosanna, la più grande soddisfazione dei cosiddetti settimanali un po' hard così è quella di avere le annunciatrici della RAI nude. Ti hanno fatto questa proposta? Beh, sì, naturalmente. Avevano offerto anche un sacco di soldi. Ecco. Qual è la ragione che ti ha spinta al no? Beh, non... Che vuol dire Antonio Moretti, no? Che no il marito. Cioè, tu che cosa? Quando è arrivato questo direttore o questo fotografo? No. 100 milioni di allo, 200, un miliardo, Rosanna Vaudetti, nulla. No, a quell'epoca era la cifra per comprare una villa al mare. No, ti dirò di più che non solo non ho accettato, ma non... Cercavo di non farmi fotografare in costume da bagno, per paura, perché c'è stato un periodo che un vignettista Prendeva le foto in costume da bagno, poi con la fantasia e le pubblicava. Immaginava. Sì, è toccato a te, vero? Mi sembra Marocca, lo scherzo. Sì, sì. Che cosa è toccato? Almeno non è toccato il vignettista, ma non è toccato nuda. Però la cosa è finita perché credo... C'è anche la moglie di Celentano, Claudio Mori. Allora Celentano diede causa, la cosa finì, quindi io... Va bene. Però pensa che terrore che avevo. Passiamo al terzo varietà. Dunque, prima avete applaudito doppia coppia, ancora prima canzonissima. Poi si voterà per questo terzetto in sala. Il terzo varietà è Dove sta Zazzà del 73. Solo quattro puntate furono trasmesse di questa varietà. Era un viaggio nel mondo del cabaret dagli anni venti in poi.